Da cosa nasce l'idea di questo corso, il Circle Time, nella classe cooperativa? Nasce fondamentalmente da un'idea di fondo, dalla considerazione che vedere i nostri studenti come persone e non solo come alunni ci permette di conoscerli a tutto tondo, a 360 gradi, e perciò di dare senso e quindi dare motivazione all'esperienza scolastica. Ma talvolta, nonostante queste buone intenzioni, non riusciamo soprattutto con gli adolescenti e preadolescenti a superare il muro del silenzio. O a volte, nei confronti dei più piccoli, dobbiamo affrontare risate e banalità che sono espressione delle loro difese, dei loro meccanismi di difesa. Come superare quindi i meccanismi di difesa? Il Circle Time nella classe cooperativa è un po' la risposta a questo interrogativo. Cosa affronteremo nel corso? Nel primo incontro la teoria del Circle Time e dopo aver visto un po' la teoria e la sua storia cercheremo di avere alcune note tecniche qual è il ruolo dell'insegnante, quali sono i tempi, quali sono i tempi di vita di un gruppo nella classe e così via. Nel secondo incontro faremo esperienza sia di riconoscimento che di produzione degli strumenti principi del Circle Time la parafrasi e la verbalizzazione ma faremo questo sperimentando quelle tecniche cooperative che diventano uno scivolo attivo per fare che la vita della classe diventi reale relazione.